Oh sì 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 sì, Fausto Bertino, tra Iumberto Madonna, Rossella scusa Ecco, Fausto Bertino Presidente, 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 Presidente da questa... Nella, Presidente, Presidente da questa parte Non vado a vedere davanti, non vado a vedere davanti Prensci, Principe, Aspetta principe venga qui tra i proletari beh dopo Bertinotti dopo Bertinotti è venuto il principe interessante